E siamo arrivati allo spazio dedicato ai nostri ospiti. Buongiorno Roberto Mantovani e buongiorno Luca Mercani. Buongiorno a te. Cominciamo da te perché abbiamo appena visto un servizio sulle dighe e tu ci porti un libro che parla di dighe. Sì, è proprio appena uscito per i tipi della Erga Edizioni di Genova questo racconto se vogliamo su alcuni grandi disastri di dighe italiane, prevalentemente italiane, da Molare al Vaillant. Molare è la diga che crollò nell'agosto del 1935 nell'Appennino Alessandrino. Il Vaillant tutti sappiamo che cosa capitò. Poi c'è anche invece un approfondito esame della diga del Gleno che crollò invece nel dicembre del 1923 sopra Bergamo e altri casi minori. L'autore è Giorgio Temporelli che è un fisico esperto di acqua e di uso delle acque ed è un volume molto documentato anche con un ricco apparato iconografico storico e attuale. Le stesse dighe di cui oggi rimangono i resti sono visitabili, ci sono anche degli itinerari molto istruttivi che si possono percorrere, ma direi che oltre a spiegarci tutti gli aspetti tecnologici per cui queste dighe sono crollate, come erano fatte, quali erano le loro modalità costruttive. Questo mette in luce pur sempre la grande qualità dell'epopea idroelettrica italiana e in generale sulle Alpi e questi disastri molto isolati, anche se dolorosi, l'analisi che poi Temporelli fa in definitiva è che sono sempre stati frutto di trascuratezza, di negligenza, di arroganza del potere perché in sostanza erano tutte catastrofi annunciate, dove sia dal punto di vista ingegneristico sia geologico si sapeva benissimo che quegli impianti non dovevano essere costruiti o del tutto o in quel modo e quindi insomma è il solito libro delle lezioni da imparare, almeno per quanto riguarda le dighe direi che oggi in Italia queste lezioni sono imparate, infatti nel libro stesso ci si fa vedere come oggi le leggi e gli apparati di controllo sono estremamente più efficaci rispetto a quelli degli anni 20-30.